Cari amici che come me state dalla parte dell'arte, un saluto da Nat Russo. Oggi vorrei parlarvi dell'arte cinetica, cioè di quell'arte che introduce nel quadro e nella scultura il movimento, che può essere tanto reale, per esempio i cosiddetti mobili di Alexander Calder, i macchinari di Jean Tigeli, oppure virtuale, ottenuta cioè dallo spostamento del punto di vista dell'osservatore, come ad esempio Vasareli, e affonda in alcune esperienze delle avanguardie storiche, tra cui il roto relief di Marcel Duchamp, il modulatore di luce spazio di Molinaggi, la costruzione spaziale cinetica di Naum Gabo. Il cinetismo è consacrato come movimento dalla mostra internazionale Le Mouvement, tenutasi nel 1955 a Parigi alla Galleria Denise René, con opere di Jacob Agam, Paolo Buri, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Robert Jacobsen, Raphael Soto, Jean Tigeli, Victor Vasareli, che in quell'occasione redige con Pontus Hulten il manifesto giallo in cui si delinea l'idea di un'opera plastica concepita in modo tale che le sue metamorfosi si effettuano in seguito allo spostamento reale dell'osservatore. Per l'arte cinetica è tutto, un saluto da Natto Russo, a presto.